Si chiamava Imogen Roche e purtroppo si è uccisa a soli 15 anni di età, non per suicidio come qualcuno potrebbe pensare, ma in circostanze drammatiche infatti voleva recuperare il suo amato cellulare da una stanza chiusa durante una festa a New York, alla Grande Vena, a The Big Apple. Quindi sarebbe salita sulla scala antincendio per entrare attraverso la finestra e sarebbe scivolata e poi precipitata per ben 5 piani. E' atterrata quindi sulla schiena, in gravi condizioni e stava portata alla Bellugue Hospital Center, dove purtroppo è stata dichiarata oramai già morta. Straziante, straziante letteralmente, avrebbe detto uno dei vicini. Era adorabile come ragazza e suo papà era un uomo straordinario, un genitore singolo. Il proprietario dell'appartamento era fuori città, quindi i ragazzi stavano bevendo durante una festa. La ragazzina quindi si sarebbe arrampicata da una finestra sulla scala antincendio per recuperare il telefonino, ma l'equilibrio è stato perso, stava manovrando la finestra nella stanza chiusa in chiave e quindi si è verificata la morte della ragazzina. Volerì a 15 anni di età, secondo me è incredibile, ma sembra proprio che ciò possa tranquillamente verificarsi a accadere. Grazie, il video termina qua. Un saluto e Imo Ken. Roche, riposi in pace. Amen.